Benvenuti e bentrovati in questo nuovo video. Spesso si accostano molte opere letterarie, molti autori a delle correnti politiche talvolta giustificate. Naturalmente ci sono state opere letterarie più o meno pregevoli che hanno fondato in parte, non parlo ovviamente di manifesti, di opere, di filosofiche e politiche che naturalmente sono la base di un determinato, o meglio forse lo erano, di una determinata ideologia. Ma alcune opere hanno influenzato un certo modo di vedere, pensiamo, alla letteratura di quello che era il naturalismo, parte della letteratura ottocentesca, che di fatto aveva dato ai lettori sguardi su come la vita degli umili, dei poveri, in particolare quella verista anche in Italia, fosse difficile e dura. Questo magari non negli intenti degli autori. Giovanni Verga, per esempio, nasceva politicamente parlando tra le file di un'aristocrazia moderata, per certi aspetti quasi progressista, ma lui stesso poi approderà verso idee più conservatrici, soprattutto verso la sua maggiore età. Tolkien è sicuramente una... il mondo tolkieniano è un mondo che è stato anche qui, come nel video che ho fatto su D'Annunzio, preso da una certa ideologia come punto di riferimento, e cioè dalla destra, ma da una destra, certamente non da una destra puramente conservatrice, bensì da una destra forte, radicale, parte da quel fascismo, quell'ideologia neofascista degli... soprattutto anni 70-80 in particolare, e ancora oggi ha delle... degli echi nella ideologia di estrema destra di oggi. Ma ci sono dei fondamenti, a parte Tolkien che sicuramente di per sé non era un uomo di sinistra come autore, ma questo non necessariamente lo rende uno scrittore di destra. Certo è che la psicologia di un autore, la sua personalità, in un certo modo si ritrova nelle sue opere, ma... beh... sì, non sempre, non è ovvia la cosa. E allora perché Tolkien è stato ripreso da una parte della destra più forte? Anzitutto per alcuni elementi, per esempio, essendo una... beh, è fantasy, ma va bene, quello non è... è semplicemente il grande mondo inventato nel quale poi può succedere, possono succedere delle cose che nel mondo reale non possono accadere, magia, popoli inventati, ma questo... anche Harry Potter in qualche modo ha questo suo... questa caratteristica, ma Harry Potter non è un... non sono dei romanzi... romanzi di Harry Potter... cari alla destra. Il Signore degli Anelli, molto il Signore degli Anelli, ma anche tutto il resto della letteratura tolkeniana, sono stati manipolati, manipolati da un punto di vista ideologico, eh, come... c'è stata un'emulazione del suo pensiero, un'interpretazione, non vorrei dire errata, ma parziale del suo pensiero. Anzitutto il tema dell'onore. Beh, sicuramente nel Signore degli Anelli, che è Enel Silmarillion, che sono le due opere... diciamo, più... secondo me anche più pregevoli, ma comunque molto più belicose, dove c'è il grande scontro tra il bene e il male, tra l'oscurità e la luce, dove il tema dell'onore, del combattimento, della morte, del sacrificio, sono importanti e fondamentali nel mondo tolkeniano. Diciamo che in Tolkien, ecco, forse manca la diplomazia, ma del resto in un mondo fantasy, che tra l'altro si rifà ad alcuni concetti del Medioevo, non è un mondo medievale, si ispira ad alcune cose del Medioevo, anche tecnologicamente parlando, ma ha come altre opere, sia medievali, sia fantasy, sia successive, sia romanzi storici, quindi quello è ininfluente. È importante il suo rapporto con l'onore, e la destra sicuramente ha l'onore, l'onore soprattutto del combattimento, dello scontro, combattere e poi eventualmente anche morire, come di fatto avviene nei combattimenti, del vincitore, dello sconfitto. Però, attenzione, Tolkien non ci dice che il vincitore, colui che combatte, sia poi quello della parte della ragione, il bene. Il bene nel mondo di Tolkien non è che trionfi sempre, in realtà non trionfa neanche il male, c'è sempre questo strano equilibrio e questa vigilanza che si deve avere nei confronti e dell'oscurità da un lato, ma anche delle forze buone dall'altro. Quindi è tanto vero che ci sono gran parte dell'oscurità, degli uomini dell'oscurità, degli stregoni, degli elfi oscuri, degli orchi, non è che siano, spesso non combattono in maniera onorevole, combatte di solito, anzi al contrario, chi è in difficoltà, pur essendo in difficoltà, continua a combattere realmente in maniera onorevole e muore in maniera onorevole. Se prendiamo il Signore degli Anelli, per esempio, un uomo che, come Faramir, combatte e poi non muore, ma comunque, pur cercando di difendere la città di Osgiliath, poco prima della battaglia sui campi del Pelennor, in una battaglia ovviamente persa in partenza, sa comunque il suo dovere quello e lo compie. e non muore, ma per poco, nel senso che poi torna quasi immortalmente ferito. E quindi l'onore del combattimento è una cosa della destra, certamente, ma non solo, quanti ha anche la sinistra, i combattimenti che le lotte operaie di classe erano in parte viste come... o parte anche di quel combattimento, tra virgolette, sempre leale della non-violenza, che non è che ci sia proprio in Tolkien, ma comunque il combattimento con onore lo si può avere da tutti e due i lati, con onore, con lealtà, con il rispetto verso l'ideale che tu stai difendendo e anche verso l'avversario, e verso le tue forze. Quindi l'onore, certo, ma l'onore lo si può trovare in qualsiasi altra letteratura, anche meno utilizzata da certi ambienti. Un tema più spinoso è quello delle razze. In Tolkien ci sono questi popoli, queste vere e proprie razze, che è un termine che già in Tolkien si può utilizzare, perché non è composto il mondo tolkieniano da un unico popolo che poi si divide in etnie, in lingue diverse. Sì, ci sono, ma ci sono anche veri e propri popoli diversi che nascono anche geneticamente, se vogliamo proprio, in maniera diversa. Gli elfi sono diversi dagli uomini, i nani lo sono dagli altri due, gli stregoni, i maiar e i valar lo sono, per tutte le creature oscure anche lo sono, sono razze nel senso di esseri non umani, nel senso non sono umani, gli uomini sono esseri umani, va bene, come simili a noi, ma gli elfi hanno delle caratteristiche molto diverse, vita e immortalità, doti paranormali e a volte anche magiche. Quindi, certamente, per una, un mondo post-seconda guerra mondiale, la razza è qualcosa che, anche ora, noi oggi, la razza è un concetto che ripudiamo, ovviamente, ma nel mondo reale, in un mondo fantasy, lo si può anche accettare, perché naturalmente è qualcosa di, che, 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 Tolkien ci, ma questo, attenzione, le, le, quelle che sono le razze di Tolkien, la grande razza nel Signore degli Anelli sono sicuramente gli elfi, ma gli stessi elfi che potremmo accostare a una sorta di razza superiore, lo sono, da un punto di vista di lunga vita, forse anche di bellezza, ma da un punto di vista etico, di valori, e poi anche di, non è che lo siano, forse nel Silmarillion lo sono di più, ma perché quelle ere descritte nel Silmarillion non è che siano, gli uomini siano tanto presenti, lo sono, i Numenoreani, e poi i Dune Dain, e altri, tutto ciò che va poi dalla seconda era, fino a, appunto, arrivare a quello che narra il Signore degli Anelli, c'è un progressivo, un progressivo, soprattutto nella Terra di Mezzo, un progressivo cambio, passaggio di testimone dagli elfi agli uomini come dominio e come potere, e quindi, ma ci sono anche quelle che potremmo considerare razze inferiori come gli Hobbit, una razza di creature piccole, non molto considerate, mai, anzi, ma che nel Signore degli Anelli ha un'importanza fondamentale, proprio perché sono, non dico incorruttibili, perché anche lì, essere corruttibili e incorruttibili in Tolkien riguarda proprio l'individuo, sono le creature che proprio vengono dal nemico, dal grande oscuro Signore Sauron, vengono totalmente dimenticate perché non crede, non pensa che queste creature così inferiori possano essere per lui una minaccia, e invece proprio Frodo Baggins e anche i suoi compagni come Senvis e Genji che sono in parte anche Gollum o Smigol come lo volete chiamare, sono delle creature per lui inferiori, per Sauron inferiori, ma che lo sconfiggono in fin dei conti, con aiutanti certamente, ma poi l'atto e il il fardello appunto è quello di Frodo che lo porta lui fino al Monte Fatto e lo getta all'interno del Monte Fatto distruggendo Sauron di fatto. Quindi Tolkien in realtà ci descrive come la creatura più innocua ma anche più non che gli Hobbit siano belli con questi bassini piccoli con questi piedi grossi pelosi anche con dei difetti amano il bere amano l'erba pipa questo tabacco diciamo eppure sono dotati di grande resistenza Frodo dimostra una grande resistenza Sam è coraggioso sono poi in fin dei conti coraggiosi questi Hobbit naturalmente ma certamente se fosse uno scontro ideologico ovviamente il grande oscuro signore il più potente all'epoca del signore degli anelli degli esponenti dell'oscurità dovrebbe essere sconfitto dal più grande esponente del bene quindi o da un elfo o da un grande re degli elfi o da un grande stregone come Gandalf o da Aragorn il grande nuovo re degli uomini non è così quindi la razza esistono quelle razze certo in Tolkien e tra loro hanno dei rapporti conflittuali gli elfi e gli uomini hanno un rapporto difficile i nani e gli elfi non si sopportano gli uomini e i nani hanno un rapporto già più forse più commerciale ma comunque pensiamo nel signore degli anelli sempre al consiglio di Elrond che Elrond riunisce per decidere il da farsi sull'anello ma c'è anche un'altra storia molto interessante due anzi una che comprenne il signore degli anelli che è forse più comprensibile c'è la storia d'amore tra Aragorn e Arwen un elfo anzi un elfa è un uomo che sono incompatibili gli uomini sono mortali gli elfi sono immortali gli elfi hanno certamente questa caratteristica di purezza soprattutto i grandi elfi anche se loro sono dei mezelfi ma comunque bene però hanno una grande il conflitto c'è ma c'è anche questo amore che non è non può essere distrutto è che Arwen rinuncerà alla sua immortalità pur di poter stare con l'uomo che ama con l'uomo proprio l'uomo come razza ecco ma ancora prima molto prima c'era la storia di Beren e Lucien lei un elfa lui un uomo che si innamorano la prima grande storia d'amore molto comune poi tra l'altro nella nostra letteratura contemporanea e addirittura anche prima la sorta di Romeo e Giulietta se vogliamo ma anche altri esempi come l'amore va oltre la distinzione delle razze e naturalmente anche agli occhi di Tolkien o meglio come autore la ragione viene data a costoro non al bigottismo di alcuni re degli elfi o re degli uomini che sono chiusi nelle loro posizioni e quindi anche questo è un tema spinoso ma è comunque un tema che in Tolkien non è fondamentalmente è unicamente una discriminante sono popoli diversi creature diverse ma che collaborano contro il male riescono a trovare punti di incontro contro il male e quindi poi certamente c'è un'altra questione la questione dell'individualismo sì è vero Tolkien non è un un amante della massa cioè quello che conta nel signor Daniel sono i gesti dell'individuo dei più o meno grandi individui Frodo Baggins è colui che distrugge il male Sauron e distrugge buttando l'anello magari fosse facile diciamo così nel nostro mondo e fosse magari fosse anche facile avere una distinzione così netta tra bene e male ci sono però anche delle battaglie cruciali dove l'individuo ma c'è proprio il suo modo di raccontare è individualista lui racconta la storia di singole persone ma chi non lo fa è molto difficile che possano esserci degli scrittori degli autori che scrivano della massa ma neanche i miserabili poi in fin dei conti anche lì si raccontano storie di individui che poi si all'interno della grande certamente della grande massa della classe per esempio ma in Tolkien meno questo va bene è una scelta comunque molto individualista un forte individualismo è vero un manipolo di persone pochi una decina di persone poi riesce a fare la grande missione e tutti gli altri ma non si sa ma se per questo anche Star Wars è così in Star Wars permettetemi di dire che ma non so che non sono l'unico a pensare in questa maniera ma in una galassia enorme che non so quante milioni di miliardi di individui ci siano in altrettanti pianeti e stelle si parla sempre dei quattro figurativamente parlando attualmente di quelle quattro storie e gli Skywalker e i figli di Skywalker e l'impero e questo qua l'imperatore il buono il cattivo ma ci potrebbero essere penso che sia il bacino quello là del mondo di Star Wars sia addirittura anche più ampio di quello del Signore degli Anelli o di forse di tutte le altre storie fantasy o fantascientifiche quindi ma si poi si incombe sempre nelle stesse i personaggi ma bisogna fare così una letteratura e in fin dei conti non è la storia è una letteratura è un'opera letteraria è un romanzo e quindi deve essere avere dei protagonisti dei coprotagonisti degli antagonisti dei personaggi non delle masse quindi anche quello certo è che ha una forte valenza il gesto dell'uno del singolo che può cambiare tutto ma questo più che di destra mi sembra una bella fantasia ma è improbabile sì può ispirare ma può ispirare ognuno di noi non necessariamente volti al bene volti al male diciamo così degli eroi così come ne possiamo avere noi nella storia Napoleone Giulio Cesare uomini che hanno fatto la storia e anche lì uomini creature perché ci sono elfi anche che hanno fatto la storia di quel mondo poi tutto quello che è paranormale ma lasciamo perdere anche perché quello non è praticamente non si può attuare nel nostro mondo passiamo all'ultimo che la nuova la destra quell'estrema destra del che andò dagli anni che nasce in parte tra gli anni sessanta e settanta e che poi negli anni ottanta si è sviluppata quella destra esisteva già prima spiritualista diciamo quella di di Julius Evola per esempio Evola che aveva questo fascismo questo fascismo quasi metafisico quasi sì spirituale con questo mondo di forze di energia di spirito oltre che di che non era quello pratico e realista nel senso in modo anche più rozzo e più duro del fascismo mussoliniano che c'era nel nazismo di Himmler per esempio Himmler che era un uomo che amava molto questa la saga dei 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 cavalieri delle leggende del germaniche Siegfriedo e la lancia il sacro graal tutte queste cose di cui poi Indiana Jones si è servito anche ma non aveva tutti i torti c'erano dei veri e propri tentativi di meccanismi di cercare di corrompere la materia di manipolarla con delle forze non tangibili e quindi in Italia meno nel fascismo italiano un po' meno si è sviluppato più tardi magari con questa con questi gruppi molto piccoli non è che fossero grandi con queste piccole enclavi interne alla destra ma proiettate altrove non alla realpolitik così proiettate verso un cambiamento dell'uomo in senso più spirituale possibile e Tolkien è entrato anche in questo caso nel nel mondo della destra di questa destra poi il resto della destra se ne è un po' appropriato anche quella che non aveva niente a che fare non dico col fascismo ma con quel fascismo spirituale che vi dicevo ma non che lo si lo si è preso in certi punti Tolkien non in altri lo si è preso appunto per questo valore per il valore per la grandezza dell'individuo i poteri la spiritualità del mondo tolkieniano e questo rifugiarsi in un mondo di antichi valori che ci poteva utilizzare se per questo anche che so la Gerusalemme è liberata l'Orlando Furioso questi di cui Tolkien si è avvalso anche Tolkien si è avvalso anche della mitologia nordica più che della mitologia mediterranea ecco si è avvalso molto delle leggende anche però orientali di una certa orientali induiste alcuni alcuni rimandi ci sono erano nati per esempio i campi Hobbit intorno agli anni 80 questi campi Hobbit che erano una sorta di bivacchi come può essere un non vuole dire un campeggio va bene ma dei ritrovi quasi dei seminari dove magari nella natura lontani dalle tecnologie più dal fragore delle città dove si c'erano dei rimandi a Tolkien nel campo Hobbit per l'appunto ma di Tolkien non è che ci fosse molto c'era così come maestro della letteratura si parlava poi di politica si parlava molto spesso non neanche di quello ci si trovava tra amici si beveva si mangiava si stava insieme si dibatteva su temi etici tra l'altro neanche poi legati al movimento sociale italiano magari legati anche trasversalmente alla destra giovanile perché molti erano giovani ragazzi alcuni estremisti altri più estranei al mondo della politica così attuale più filosofici ecco c'era di tutto e di Tolkien si è preso appunto si è preso tutto ciò che potesse essere utile ciò che poteva essere inutile è stato tralasciato o che poteva essere dannoso è stato tralasciato ma come lo si è fatto in tutti come si è fatto con l'annunzio d'annunzio certamente era un uomo di destra ma non era fascista d'annunzio ve lo spiegate in un video il fascismo era in parte d'annunziano ma era poco in pochissimo si prendeva quello e si tralasciava l'altro così come di Tolkien si prende una parte e si tralascia tutto il resto per esempio la donna la figura femminile è una figura un po' mascolina ma neanche tanto ci sono Eowyn per esempio con lei la 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 guerriera che durante la battaglia del Pelennor uccide il re stregone di Angmar il capo degli spettri dell'anello e che nessun uomo poteva uccidere lei lo uccide in quanto donna che è una figura di beh non direi di femminismo perché in realtà è una figura che grazie alla sua femminilità in effetti riesce a sconfiggere qualcuno che non potevano gli altri uomini sconfiggere ma allo stesso tempo è una figura che combatte come un uomo quindi anche qui c'è questo strano rapporto ma ci sono figure femminili come Galadriel come Arwen vedete io evito di parlare dell'Hobbit sia come opera letteraria per parlare di quella cinematografica dove è una lettura più piacevole ma anche più semplice con dei valori anche lì ma diversi i valori di Tolkien sono questi che il bene può essere garantito sia dai grandi così come dalle persone che possono sembrare più deboli, più inutili ma che poi hanno delle qualità cioè che le qualità di ognuno sono fondamentali e che l'onore è qualcosa di importante la lealtà, tutte queste cose che si ritrovano nel Signore degli Anelli in altri tipi di letteratura quindi Tolkien è stato usato dalla destra ma non credo che possiamo definire Tolkien come uno che ha dettato le regole per la destra poi che lui fosse di destra o meno va bene ma è un'altra questione ma le sue opere questa è una tesi anche la sinistra può pensare di prendere parte di Tolkien nella collaborazione tra popoli diversi può usarlo contro il grande male che poi ognuno vede il male nella realtà come vuole quindi non sono soddisfatto io di questa visione di Tolkien che sia dalla destra sia dalla sinistra viene detto come uomo di destra come letteratura di destra e basta fascista addirittura ma non sono d'accordo ditemi voi se siete o meno d'accordo vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio per avermi ascoltato